ciao patati ci tagliamo un po' di cuore? no ciao rilangiano dai mettimi sul telegiornale buongiorno allora stanotte Alessandro ha dormito dalle 10 alle 7 di stamattina una meraviglia adesso sono le 9 fra un po' andiamo a fare una passeggiata visto che c'è Manuel a casa questa roba cos'è sta roba che non mi piace per niente sono le 10 ore non mi piace per niente non mi piace per niente non mi piace per niente Ciao! 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 Ciao bimannera! Ciao bimannera dove sei Ananda? Il mostro sei tu! Piccolo mostro! Andiamo a guardarla mamma! Fammi vedere questo bimba! No! Ciao! 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 Ciao patati! Ciao! Ci tagliamo ancora? No! Ciao rilangiano! Vai mettimi sul telegiornale! Non interessa niente a me di chiudine! Stiamo guardando Grey's Anatomy! No! Grey's Anatomy! Ciao! 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 Sì! Ciao! 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 come che ti spinge via? no 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 non vuoi buttare su una nave chiamori adesso si stirà bene ho stirato un po' di cosine sono le 3 adesso andiamo su che Manuel fa il bagno ad Alessandro e dopo andiamo con Indira dal veterinario vai a Indira e fai la puntura nel culo eh si si perché deve fare i vaccini allora andiamo su prima a lavare Alessandro che poi mangia qua ho spento il ferro si e che poi appunto Alessandro mangia e andiamo dal veterinario con le dodini andiamo su andiamo su faccio pure il tiro di piccio eccoci e poi oh Dio che pussa oh Dio che pussa sto bimbo oh ma quanto pussi è un pussone è un pussone adesso fai il bagnetto oh Dio che bello facciamo il bagnetto dico ossi 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 eh di questo adesso non lo asco Ah beh, vai! Stai fermo! Che faccia il pai? Non sa dirmi che è fredda, che è caldissima che sta colpando! Ciao? Ciao Pistolino! Sono un pistolino! Sì sì sì, sono un pistola! Tira su la testina così Ciao! E' un po' agitato oggi, oggi sono un po' agitato, oggi sono un po' agitato, oggi sono un po' agitato. E' un po' agitato, oggi sono un po' agitato, oggi sono un po' agitato. E' un po' agitato, oggi sono un po' agitato, oggi sono un po' agitato. Adesso andiamo a mangiare, un attimo che il papà prepara il video. Andiamo a mangiare, ma cosa stai mangiando? Stai mangiando la mamma? Stai mangiando la mamma? Quando si mangia la mamma non è buona? Sai che non è buona? Con chi ce l'hai? Quel campanello. Buon appetito eh! Grazie. Vuoi mandarino? Mangiato? Sentito che c'è un bambino gonfio di cibo. Hai mangiato? Quanto hai mangiato? Dio mio! Quanto hai mangiato Fagotto? 150 più 60. 150 più 60. 210 di cicarota di latte. Però vi mangiate le 10 e mezza di stamattina e sono le 3. Quasi che sono quasi le 4. Sono quasi le 4, ecco. 5, ecco. La mamma. Eeeh, laia, 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 laia. Chi è che sta andando dal veterinario? Eh? Chi è che va dal veterinario? Chi è che va dal veterinario? T'è contento di andare in giro? Occio della... Senta che non è tocca filmare l'incidente. Chi è che sta andando dal veterinario? E chi è che ti sta accompagnando? La mamma? E Alessandro? E il papà? E il papà ovviamente sta filmando. Ciao, ho appena mangiato. 3.000 kg di latte ho appena mangiato. E l'Indira dov'è? Indira! Ciao, ciao la terrorizzata. Ciao la terrorizzata, vi fatele puntiolo nel culo? Sì? Sì? Raccontiamo quanta paura avevi? Ce l'avevo il palio. Lasciamogli amore. Andiamo a fare le nane. Beh? Andiamo su come cambiate il culo, mi vado a letto lì. Tanto sono. Andiamo a fare le nene? Sì. Scricioli. Sono pieno di latte. Ciao, piedini. Ciao. Chi è che va a letto adesso? Eh? Eh? Sì. mi metterà il papa non c'è nulla mamma non c'è nulla